Luca 1, e dal versetto 26. Parla al nostro cuore, Signore. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse, ti saluto favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai in nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tuo parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo la lasciò. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò, benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata ecco lei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Amen, accomodatevi pure fin qui la parola di Dio e nessuna parola del nostro Dio, come abbiamo letto, rimarrà inefficace, nessuna. Grazie a Dio il nostro Signore è un Dio che parla, non è muto, non è introverso, non tiene tutto per sé, rivela i suoi pensieri, rivela tante volte i suoi stessi sentimenti, quello che ha in cuore, ci fa conoscere le sue vie, che sono così infinitamente più alte delle nostre vie. Qualcun altro potrebbe dire cosa te lo spiego a fare, neanche il caso di accennarlo, ti dovrei dire poi troppe cose, non capiresti, eppure Dio sceglie di rivelarsi e ci fa conoscere tutto quello di cui l'anima nostra ha bisogno per giungere alla salvezza, per avere comunione con Lui, per camminare in queste vie dove tante volte noi non sapremmo dove andare, invece Lui non solo ci dà la luce ma ci dà anche la forza per andare avanti, ci rivela, ci fa conoscere il suo amore, la sua santità, la sua giustizia, il suo piano per la vita di ognuno di noi e quando parla la sua parola è sempre efficace. colui che parla è colui che ha detto sia la luce e la luce è apparsa, quindi quando parla il Signore la sua parola ha compimento, ha efficacia, se il Signore dice qualche cosa, parla di un fatto, quel fatto accade, se il Signore fa una promessa, quella si compie, se il Signore decreta un giudizio, un giudizio suo, non quelle maledizioni che tante volte gli uomini lanciano nella propria collera o così nel proprio nervosismo, se è Dio che lo decreda quel giudizio si compie. Ecco perché abbiamo tutte, come possiamo dire, le angolazioni spirituali, tutti gli incentivi per credere con timore, con amore, con speranza che la parola di Dio non rimane mai inefficace. Ed è in questo quadro, in questo orizzonte così ampio, che a volte noi facciamo perfino fatica a tenere unito, raccolto davanti ai nostri occhi, che noi riceviamo la parola del Signore e che questa può avere realmente efficace nella nostra vita. A volte restringiamo troppo l'obiettivo, con la scusa che non possiamo capire le cose profonde, le cose future, non riusciamo ad afferrare e non comprendiamo che il Signore innanzitutto quando ci parla, ci parla di Gesù. Nel passo che abbiamo letto, Dio si rivolge tramite un angelo a questa donna, ma avete visto, avete letto con me, la figura, l'opera di Gesù giganteggia su tutto, prende veramente tutto il panorama e questo dobbiamo comprendere, questo devi comprendere tu che a volte cerchi una parola da parte di Dio, un messaggio risolutivo, un qualche cosa, un'indicazione che ti dia luce, speranza. Magari pensi che si debba trattare soltanto di te, di quell'angolo ridotto della tua esistenza, di quella circostanza particolare che stai vivendo e basta, ma il Signore non ti parla soltanto di te, il Signore ti parla di sé, anzi ti parla di Gesù. Un messaggio evangelico che sarebbe concentrato soltanto su noi stessi è un messaggio riduttivo, che non porta vita, non salva, non fa crescere, non procura forze. Ecco perché nessuna parola che noi riceviamo deve rimanere isolata, deve rimanere distanziata rispetto alla persona, all'opera di Gesù Cristo, il nostro Signore. Non puoi dire parlami su questo e magari non sai niente di Gesù, non sai qual è la condizione della tua anima, non ti rendi conto di quella che può essere la tua sorte eterna e dici, Signore, dimmi questo, fammi conoscere quest'altro, faresti prima a leggere l'oroscopo con tutto il rispetto. La parola di Dio non è un trattato di astrologia o qualcosa di simile, è un messaggio di salvezza che parla di Gesù ed è questa parola che ci parla di Gesù che poi attraversa la nostra vita, raggiunge ogni ambito della nostra esistenza, sia anche quello pratico, sia anche la sfera fisica, ma è questa parola piena, completa, che non rimarrà inefficace e che non dobbiamo mai separare dall'opera di Gesù, perché altrimenti scadiamo in un messaggio che invece di produrre in noi fede, produce soltanto fiducia in qualche buona circostanza e poi tanta incredulità nei confronti del Signore. Vedete, questa donna esprime tutto il suo stupore davanti a Dio, ma non è incredulità. D'accordo, ci credo, è la parola di Dio. Sono anche stupita, come mai il Signore sceglie proprio me? Come altri, anch'io aspetto il Messia, ci credo che debba venire. Ma come può avvenire tutto questo? Vedete, non ne fa un problema di ordine soprannaturale, come Dio farà a far accadere una cosa del genere, semmai ne fa quasi una questione morale. Io, insomma, sono una vergine, non conosco uomo, insomma, bisogna anche rendersi conto di quello che poteva passare per la mente di questa ragazza. Infatti l'angelo non la rimprovera, non la redarguisce, gli dà questa spiegazione così meravigliosa che noi, come Maria, facciamo fatica a comprendere appieno. Oh, il Signore che con la sua ombra copre, che manifesta, insomma, la sua gloria, ci sembra di vedere la schechinà che scende nel Tempio. Possiamo soltanto comprendere, possiamo afferrare quello che sicuramente Maria afferrò, cioè tu non devi fare nulla, è il Signore che opererà, non sarà per i tuoi sforzi. Non pensare adesso a fare qualche cosa, non pensare a infrangere il patto del tuo fidanzamento, nessun'altra cosa, come al tempo di Mosè, quando i sacerdoti dovevano uscire dal Tempio perché il Signore scendeva con la sua gloria, la sua ombra copriva questo luogo santo, così colui che nascerà sarà il santo, perché Dio opera in maniera santa e in maniera gloriosa. Vedete, tante volte i nostri limiti naturali, se abbiamo fiducia nel Signore, non possono impedire il compimento della sua parola, non tolgono efficacia quello che Dio ha detto di voler fare. Noi dobbiamo semplicemente credere e arrenderci nelle mani di Dio, del nostro Signore. Non sono neanche le potenze così sovrumane che possono impedire il compimento dell'opera di Dio. Se Dio parla, nessuno lo può fare tornare indietro. Ma tante volte, purtroppo, la nostra incredulità, il nostro limitare Dio, il nostro non voler aprire il cuore al suo piano, non permette che quella sua parola sia efficace per me, per te, nella nostra vita. Il Signore deve allora redarguirci, disciplinarci, a volte anche di più. Vedete, l'angelo si rivolge a questa donna, a questa ragazza, con una certa comprensione. Ma lo stesso angelo ha dovuto redarguire, punire Zaccaria, se vedete pochi versetti prima. Questo sacerdote, anche a lui apparve l'angelo, mentre era il suo turno di offrire i profumi nel luogo santo, l'angelo gli appare e gli dice, oh, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Aveva pregato, perché la moglie era sterile, e voleva un figlio, e aveva pregato, e aveva pregato, e aveva pregato. Erano passati degli anni, pensava che Dio si fosse dimenticato, che ormai non ci fosse più speranza, invece il Signore gli fa dire, oh, la tua preghiera è stata esaudita. Ma quest'uomo, ricordate la sua reazione, dice, ma io, ormai sono anziano, e anche mia moglie non è che sia poi giovane. Vedete, mise i propri limiti naturali come se fossero dei limiti per il Signore. Allora Dio, che prima aveva ascoltato la sua preghiera, chissà quante volte gliel'aveva rivolta, gli fa dire dall'angelo, tu adesso per un po' starai muto, non potrai parlare. C'è questa disciplina da parte di Dio. Ma come tu hai pregato e non credi che Dio possa operare? Quando preghiamo, noi ci aspettiamo che Dio operi, o mandiamo aria calda, o preghiamo perché ci è detto di pregare? Quando noi preghiamo vogliamo avere fiducia nel Signore, perché la sua parola si può compiere sempre, ma si deve compiere con efficacia nella nostra vita. Non possiamo impedire il compimento dell'opera sua, ma a volte in qualche modo noi potremmo così togliere efficacia la benedizione di Dio verso la nostra propria anima. Quando quelli che sono i limiti nostri noi li attribuiamo al Signore. No, dovremmo imparare a dire io non posso fare nulla senza il Signore, ma in colui che mi fortifica io posso ogni cosa. È giusto, io dico sempre, è buono, è salutare, avere il senso dei nostri limiti, ma attenzione a non trasferirli sul nostro Dio che rimane l'Onnipotente. Mentre stasera pregherai, aspettati che Dio possa rispondere e possa operare. Quanti a volte di fronte alla parola di Dio, invece di credere che si potesse adempiere, che ha efficacia sempre comunque, hanno posto davanti una loro incredulità che non era fondata soltanto su una razionalità umana, una capacità di ragionare che tutti quanti abbiamo, ma sul non accettare in certi momenti che Dio possa operare, che Dio sia Dio, che Dio ha l'ultima parola. Ricordate al tempo del profeta Eliseo, quando c'è questa carestia, ed Eliseo dice guardate che domani qui le cose cambiano, ci sarà da mangiare, da bere, le cose si venderanno di nuovo per il suo prezzo, ci sarà farina in abbondanza. Il capitano del re che cosa disse? Ma guarda, anche se Dio facesse delle finestre in cielo, io non ci credo che questo possa accadere. Il profeta dovette dirgli, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. E quando accadde, era tanta l'abbondanza che la folla si fece avanti. Lui rimase fermo, non credeva ai suoi occhi, continuava a non credere. La folla lo calpestò e morì. Vedete, la parola si è adempiuta perché non rimane inefficace, anche se tu sei incredulo, ma non si adempirà per il tuo bene, la tua salvezza e la benedizione. Signore, noi stasera vogliamo credere. Forse ti esprimeremo il nostro stupore, forse come Maria diciamo, sì, io credo che possa avvenire, ma come? Cosa devo fare? C'è qualche cosa che posso capire? A volte noi non capiamo come Dio opererà, ma questo non significa che noi non possiamo credere che Dio opererà perché Egli è colui che opera. L'incoraggiamento, l'esortazione che ci viene dalla parola del Signore stasera è semplice, ma nello stesso tempo è immediata credere veramente nel Signore per il nostro bene. Il Messia che sarebbe venuto è il Messia che ancora annuncia che Egli tornerà e tornerà a prendere la sua Chiesa, i Redenti. Coloro che lo credono hanno le loro limitazioni, hanno le loro problematiche, riescono a capire fino a un certo punto, non sappiamo cosa sarà, non sappiamo neanche come saremo noi, però sappiamo che lo vedremo faccia a faccia, lo vedremo come Egli è, perché saremo simili a Lui. Vedete, alla fede non è chiesto di capire tutto, di decifrare ogni cosa del linguaggio spirituale, delle possibilità di Dio. Alla Chiesa, alla fede è chiesto di mettere il cuore sulla parola di Dio. Quelli che invece continuano a dire con incredulità, ma non è possibile, ma le cose vanno avanti così fin dalla creazione del mondo, non cambia nulla, non cambierà nulla, quelli dovranno comunque vedere il compimento della parola di Dio, soltanto che incontreranno il Signore come loro giudice, come loro perfetto giudice, e nessuno potrà assolverli, difenderli, non ci sarà un avvocato tanto bravo da farli passare per innocenti davanti a Dio, dinanzi a colui che conosce l'intimo del loro cuore. Ma per coloro che hanno sperato nel Signore, essi lo incontreranno come perfetto Redentore, come colui che li ha salvati, che ha dato la vita per ognuno di essi, che ha interceduto, che stasera sta intercedendo per te, che ancora dici ma com'è possibile, ma perché dovrei credere. A volte vedete l'incredulità non è soltanto un fattore di ragionamento, in realtà nel profondo che ce ne rendiamo conto no, è un fattore di ribellione, è un fattore spirituale, perché se veramente tu dovessi credere nel Signore ci dovessi mettere la tua vita, lo sai, lo hai capito, dovresti cercare il Signore per vivere secondo la sua volontà. E allora tante volte ci teniamo un passo indietro e non prendiamo questa decisione, ma la sposa di Cristo è formata da coloro che con tutti i loro difetti, i loro acciacchi, le loro rughe, le loro imperfezioni hanno creduto nella parola del Signore. E anzi, invece di mettere in dubbio quello che Dio dice, continuano a essere pieni di stupore e di meraviglia nel dire, Signore, ma come hai potuto salvare uno come me? Come hai potuto lasciare la gloria per salvare una persona come me, che non lo merito, non sono degno, Signore? Vedete, non è un fattore spirituale, è un fattore morale. Cioè noi comprendiamo che davanti a Dio non siamo degni, ma realizziamo veramente la potenza del suo amore. Allora nessuna parola rimane inefficace se noi la riceviamo attraverso l'opera di Gesù, attraverso la grazia di Dio che è in Cristo. Se tu vuoi cercare soltanto un'indicazione per la tua vita personale, per i tuoi affari umani, anche leciti, legittimi, avrai forse soltanto una luce da parte di Dio, ma cosa cambia nella tua anima? Cosa muta per la tua sorte eterna? Ecco perché è importante che lasciamo che il Signore ci raggiunga con la pienezza dell'Evangelo. E quella parola non rimane inefficace perché noi non la isoliamo dentro il nostro cuore, ma noi lasciamo che Dio parli alla nostra vita e parli anche alla vita di altri. Signore, ti ha dato una parola? Attenzione, nessuna parola che è uscita dalla sua bocca è quella che ha efficacia e ha compimento. Se è uscita dalla sua bocca, allora andrà a effetto, compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. A volte il Signore ci può dire di partire, a volte il Signore ci può dire di restare, ci può dire di andare a destra, ci può dire di andare a sinistra. L'importante è che quella sua parola venga dalla bocca del Signore. E per questo noi abbiamo la prova del 9, deve essere innanzitutto conforme alla scrittura, a quello che Lui ci ha lasciato detto e è impresso una volta e per sempre. A volte è sconsolante sentire persone che con molta superficialità dicono Dio mi ha detto, fino a oggi, qualcuno mi riferiva, seguiva la chiamata di Dio per la propria vita, a fare qualche cosa che non trova neanche conferma, corrispondenza con le scritture. Perché dire Dio mi ha detto, se tante volte sinceramente soltanto leco dei nostri pensieri, dei nostri desideri, delle nostre impressioni e qualche volta perfino delle nostre superstizioni, delle nostre paure, vogliamo essere aperti davanti al Signore. Non abbiamo bisogno di far riecheggiare i pezzi di legno, Dio parla, parla da sé, parla di sua iniziativa, possiamo ricevere la parola del Signore, non dobbiamo in nessun modo cercare a volte di farla sentire anche ad altri, quando magari la parola di Dio può creare delle tensioni, delle crisi interiori, può creare anche delle problematiche per il suo stesso compimento. Ma ci pensate Maria che va a dire a Giuseppe una cosa del genere? Mettiamoci al suo posto. Come fai a convincere certe persone? Se Dio ti ha detto qualche cosa. C'erano stati dei momenti nella mia vita in cui ho detto, ma come faccio a dirlo anche ad altri? Però ho detto, Signore, quello che hai detto a me lo devi dire anche a lui, lo devi dire anche a lei. Non glielo devo dire io, glielo devi dire tu, Signore. Non è che posso imporre, devo dimostrare, devo convincere, non convinco nessuno. Signore, tu parli perché la tua parola è efficace. Se lo è stata per me, non c'è bisogno che dal mio cuore la faccio riecheggiare nel cuore dell'altro. Parla tu, Signore. L'angelo fu mandato anche a Giuseppe, gli apparde in sogno e gli disse, Giuseppe, sì, ti sembra strano, ti sembra molto strano, ma non temere, non temere di prendere con te Maria, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito del Signore. Giuseppe è animato da buoni sentimenti, non voleva mettere a repentaglio la sua vita, per le adultere si rischiava anche la morte. Era comunque affezionato, era animato da buoni sentimenti, ma non poteva pensare a una cosa del genere. E certo Maria era l'unica che glielo poteva spiegare e che lo potesse convincere. Ma il Signore parlò al suo cuore. Dobbiamo lasciare che Dio parli. Tu forse stai dicendo, ma come farò a dirglielo, come farò a dimostrarglielo? Ci penserà il Signore. Vedete, questa donna poi, in qualche maniera, realizza tutto questo, realizza quello che noi a volte realizziamo, che invece di essere noi a dimostrare agli altri che Dio ha parlato alla nostra vita con tutte le nostre tensioni, a volte la nostra limitazione umana, scopriamo che saranno gli altri a confermare a noi che Dio ha parlato alla nostra vita. Veramente benediremo e glorificheremo il Signore. Altri ti diranno che Dio è all'opera, forse da chi meno te lo aspetti, quando meno ci speravi, e Dio ti spingerà a fare dei passi, dove sentirai qualcuno che ti confermerà. L'angelo gli parla di sua cugina, Elisabetta, che aveva più anni di lei, e gli dice che Elisabetta aveva tenuta nascosta la gravidanza. Guarda che ormai è verso il sesto mese. E questa donna quindi parte dalla Giudea, dalla Galilea, se ne va fino in Giudea, insomma, un po' di giornate di cammino per andare da questa sua parente. Pensa non di cercare una conferma umana, perché aveva creduto a quello che il Signore aveva detto alla sua vita, ma va lì per confrontarsi, per condividere forse, per accontare. Ma non fa neanche in tempo a parlare ad Elisabetta di quello che gli è successo, di quello che Dio gli ha detto, che subito Elisabetta la saluta e già Dio aveva attestato al suo cuore come stavano le cose. Signore, tu sei grande. Nessuna parola di Dio resterà senza efficacia. Ed è interessante perché Elisabetta, in questo sussulto che ha lei, il suo bambino, nella sua gravidanza, già inizia, vedete, ad attribuire questa forza, questa potenza non a Maria, ma al bimbo che lei ha in grebo. Maria a volte, ebbè lo sappiamo, e non è il caso di approfondire la cosa. È stata fin troppo esaltata come figura praticamente di mediazione fra Dio e gli uomini. Nulla di tutto questo nella scrittura. Se ci fosse non avremmo nessun problema a riconoscerlo, ma non c'è, assolutamente. Tuttavia Maria rimane una bella figura che noi rispettiamo, un bell'esempio di una donna che sa come atteggiarsi dinanzi alla parola di Dio. Con la giusta meraviglia, con la giusta fiducia, con la giusta ubbidienza, anche noi vogliamo confidare nel Signore. Semmai vogliamo prendere esempio da questo atteggiamento che non sta lì a dire ancora come, come, ha fatto una domanda, gli è bastata la risposta. Basta, l'angelo se ne può andare. Non ha lì ancora da fargli il terzo grado, ma conclude semplicemente col dire mi sia fatto secondo la tua volontà, secondo la volontà di Dio. E a chi parla così il Signore non potrà che dire ti sia fatto secondo la tua fede. Signore opera stasera. nessuna parola del Signore rimarrà inefficace. Elisabetta, vedete, gli conferma tutto questo e si incoraggiano a vicenda, si edificano a vicenda, si confermano a vicenda. È un bell'atteggiamento da parte di entrambe. E sta donna che da sterile adesso ha avuto questa risposta prodigiosa da parte del Signore rimane grata a Dio, anche se si accorge adesso che la sua cugina più giovane, insomma, se lei sarà la mamma di questo Giovanni che andrà così a preparare la via per il Messia, adesso ha davanti la mamma stessa del Messia. E la benedice, la incoraggia, non è presa da invidia, non dice sì, Signore, hai fatto una cosa bella, grande nella mia vita, ma perché io la mamma di Giovanni e lei la mamma del Messia? Ci pensate? Maria non è andata lì dandosi delle arie. Ed Elisabetta non è lì a sentirsi inferiore, si benedicono a vicenda. A volte anche chi ha ricevuto un dono, una chiamata, una benedizione sulla carta, umanamente parlando, forse è diversa, noi diremmo minore, può essere di grande benedizione, di grande sostegno, di grande aiuto per chi ha ricevuto una chiamata, un dono maggiore, perché alla fine tutto va a compimento nel regno di Dio. Non c'è nulla di nostro, non ci sono capacità umane, non c'è nulla da sbandierare a titolo personale, è Dio che viene glorificato. E queste donne comprendono e possono stare insieme senza alcun problema. Se Maria è potuta stare tre mesi in casa di Elisabetta, significa che sono andate d'amore e d'accordo. Signore, grazie per quello che tu dai in mezzo alla tua Chiesa. Vogliamo riconoscere, non vogliamo coltivare l'invidia, semmai la stima, la collaborazione, vogliamo vedere la tua gloria, Signore. Sono animate da questa profonda fiducia, anche se adesso non comprendono bene ogni cosa, ma hanno capito che Dio ha parlato. Signore, ti ha fatto una promessa? Signore, forse ti ha tirato le orecchie su qualche cosa? Ti ha avvisato? Signore, ti ha dato una comprensione spirituale? Ascoltalo, ascoltalo. Perché Dio continua a parlare se noi continuiamo a confidare? E quella parola non rimarrà inefficace. Anche se a volte passa del tempo, anche se a volte possiamo essere titubanti, io, dice il Signore, affretterò le cose a suo tempo. nessuna parola, fratello, sorella, anima cara, rimarrà inefficace. Dai modo, dai tempo, apri il tuo cuore, affinché Dio compia il suo piano nella tua vita. Queste donne avevano bisogno di una tale fiducia e ce ne l'avevano. Questo poteva bastare, ma non dovevano separare quella parola che avevano ricevuto dall'opera di Cristo, non dovevano in qualche modo chiuderla nel proprio cuore. Per altre cose Dio avrebbe parlato ad altri, non dovevano neanche restringere la propria cerchia, forse privata, forse familiare, perché quando Dio parla ci benedice per essere di benedizione agli altri. E' bello vederle che si incontrano e si benedicono e comprendono che la grazia che gli è stata fatta è per portare salvezza, benedizione in mezzo al popolo di Dio. Si incoraggiano in questo e ne hanno bisogno, perché entrambe, entrambe vedranno il loro figlio morire. E in certi momenti è umano chiedersi quando subentra la paura, l'avvilimento, ma cosa è servito sperare nel Signore? A cosa è servire amare i Suoi comandamenti, credere nelle sue promesse, se poi le cose vanno a finire in un certo modo? Ecco perché la parola di Dio la dobbiamo ricevere tutta, perché ci parla di un regno eterno. Ci parla di cose che guardate solo alla luce delle circostanze terrene, dei 70, 80, 100 anni che possiamo passare in questo pianeta, non hanno sbocco, sembrano non avere soluzione, sembrano non avere scopo, sembrano non avere senso. Ma quando la parola che riceviamo abbraccia l'opera di Cristo in ogni senso, abbraccia il suo regno eterno, allora tutto ha un senso, tutto ha il suo compimento. qui dalle donne che vedranno morire i figli, ma quante madri morenti hanno messo i propri figli nelle mani del Signore? Io ne ho viste, ne ho conosciute, quante che soltanto Dio conosce, perché a volte è stata una preghiera intima, a volte perfino nei pensieri di un'anima che si ravvede negli ultimi istanti o di una donna di fede che continua a sperare, che magari morente, ha detto Signore i miei figli! Proteggi, aiutali, li metto nelle tue mani. O forse donne che stavano anche bene, ma che morendo non hanno visto tutto questo, non hanno visto il compimento della parola di Dio che aveva incoraggiato il loro cuore. La loro vita è finita, ma non è finita l'opera del Signore. Un giorno tutto si vedrà nel suo compimento, perché Dio ha fatto più che proteggere quel ragazzo, che aiutare quella giovane. Il Signore ha fatto in modo che gli si parlasse di Gesù. Il Signore gli ha fatto incontrare qualcuno che gli ha parlato del Dio vivente e si sono convertiti a Lui. Sono stati salvati per l'eternità. Mentre quella donna diceva, Signore, i miei figli? Dio ha risposto, saranno figli miei e li salverò e li porterò nella mia gloria. Vedete dove arriva il piano di Dio? Quando noi pensiamo che la Sua parola abbia perduto efficacia, quando abbiamo pensato, dedotto, che ormai si è andati oltre il tempo massimo. Massimo, non fare come Zaccaria stasera, non dire è troppo tardi, sono troppo anziano, la parola di Dio è ancora per te stasera. Non dire sono troppo giovane, come disse all'inizio il profeta Geremia, la parola di Dio è per te stasera. E vuole avere il suo compimento. poca esperienza per i giovani, poche forze per gli anziani, i nostri limiti naturali, è vero, ma nessun limite umano può porre limiti alla potenza del Signore. Allora stasera è un aspetto di fede profondo, individuale, credere nel regno di Dio che è un regno eterno. Hai ricevuto una parola da parte del Signore? Cosa ti ha detto? In cosa ti ha fatto sperare? In cosa ti ha fatto mettere il cuore? Ebbene stasera devi allora chiederti se ti stai disponendo, se ti stai aprendo, affinché quella parola non rimanga inefficace nella tua vita. Perché potrebbe adempiersi, ma invece di vederla con gioia potresti davvero essere pieno di amarezza per non aver colto il momento in cui Dio ti ha chiesto di credere in Lui con tutto il cuore. Stasera il Signore manda una parola, la manda ad ogni cuore. Può essere anche una parola personale, intima. Può essere una parola che riguarda la tua vita, perfino il tuo lavoro, perfino la tua guarigione, come può riguardare anche una promessa spirituale di liberazione o di battezzarti nello Spirito Santo. Tu sai come ti stai atteggiando, se stai mettendo davanti il tempo che è passato, se stai mettendo davanti come farò poi a compiere tutto questo, come farò poi a dimostrare ad altri che Dio ha operato nella mia vita. Stai mettendo davanti tanti sé, tanti però, tanti ostacoli che possono impedire a te di ricevere, non a Dio di operare. Perché potresti vedere nella vita di altri la stessa benedizione compiuta, che forse avevano più problemi, più limiti di te e li vedrai benedetti dal Signore e tu potresti vederti senza quel tocco celeste da parte di Dio. Ecco perché stasera la parola vuole richiamare, vuole incoraggiare, vuole far riecheggiare nel tuo cuore non i pensieri di una voce umana, ma quella certezza che quando Dio parla la sua parola non rimane mai inefficace. Alziamoci in piedi, cerchiamo la faccia del Signore.